Niente da fare per la T-Gruppa Reiki, capone al derby contro la Rarinantes Salerno. 10-14 il risultato finale, cugini che raggiungono al terzo posto in classifica, quota 22 punti, proprio la T-Gruppa. Un pizzico di tensione iniziale e la maggiore esperienza di diversi elementi della compagine giallorossa hanno fatto inevitabilmente la differenza. Il match è stato sostanzialmente equilibrato con la Rarinantes Salerno più volte in vantaggio e la T-Gruppa Reiki brava a rispondere colpo su colpo con Luongo e Gianluca Esposito. La differenza è tutta nella terza frazione dove i ragazzi allenati da Mario Grieco subiscono un 1-2 devastante grazie alla doppietta di Migliaccio che porta gli ospiti per la prima volta in vantaggio di due lunghezze. De Rosa rialza la Reiki sul meno 1 ma D'Angelo, Moras ed ancora Migliaccio chiudono il parziale sul 6-10. Ultimo quarto nervoso, vengono espulsi sia Gianluca Esposito che Scotti Galletta per la reciproche scorrettezze. Sul sulto d'orgoglio per la T-Gruppa Reiki che prova a rialzare la testa e quasi riesce a raddrizzare il match con due realizzazioni di Luongo che riportano i suoi a meno 2 a tre minuti dal fischio della sirena. Tutto è ancora in gioco nonostante nel frattempo sia Carmine Esposito che Lobov sono costretti ad alzare bandiera bianca gravati da tre falli. La chance per la T-Gruppa non tarda ad arrivare. Controfallo della Rarinantes contro fuga di De Rosa che ha la palla del meno 1 ma coglie la traversa. Di fatto è l'ultima occasione per i biancoblu che di lì a poco capitolano ancora in virtù delle reti di Di Magliano e Gallozzi per il definitivo 10-14 per gli ospiti.